Mi piace la paura, eh? Ma vi racconto una storia vera di paura a altro che Halloween. Ascolta, ho un problema. Ah beh, dillo a tuo papà. Mi sono fidanzato. Ma meraviglioso! Con un'umana? Benvenuti! Dovete promettermi che non userete i vostri poteri su di lei. Come sei bella, Luna! Grazie, pronelte! Mi chiamo Salma. Salma! Noi tutti dobbiamo accettarla. Credo che lo zio ti abbia preso in parola. No! Adalberto. Quell'animale è il padre della ragazza. Scusate l'improvvisata, noi abbiamo rimediato solo questa. E comunque è una signora bottiglia, voglio dire. Sono sempre dubbiate. Piotte. Figo. A te te si tengono per piacere la pensione dei mali di Davie? No, io sono il capo anonimo, ho il testato tutto a mia moglie. Ci avevo i guidagli a qua. Quelli che sono pieni al sangue. E che toni che fate? Adesso vado da Dalberto e me lo riprendo. Io so, voglio diventare un vampiro. Mortimi, che ti costa? In fondo, ogni famiglia è un po' mostruosa a modo suo, no? Io voglio vivere da umano. Quindi lei ha detto chi sei? Boo!